Buongiorno a tutti, innanzitutto buon tutto a tutti, con questo video vi voglio far vedere il mio nuovo libro Altre forme dell'amore, sarebbe un racconto che ho fatto di sei pagine, non tanto però breve e conciso che fa capire che esistono diverse forme dell'amore, perché l'amore ha diverse sfumature e quindi vi consiglio di comprare questo ebook, di scaricarvelo su Amazon Keydor e leggerlo ecco, perché credo che sia molto interessante, sono dei pensieri messi tutti insieme, scritti da me che possono fare riflettere le persone su tanti argomenti dell'amore, ecco, le tante sfumature dell'amore, perché l'amore è come una pittura, ha diverse diverse forme, quindi provate a leggerlo e poi fatemi la recensione su Amazon, sotto a questo libro, ecco, così a meno so se vi piace oppure no mi farebbe molto piacere se lo comprate, non costa tanto, vi faccio vedere quanto costa 9,50 euro quindi se vi interessa, che vi piacciono i racconti, vi piace riflettere sulle cose della vita vi consiglio il mio libro, altre forme dell'amore non costa neanche tanto, mi sarebbe anche un bel regalo da fare alle persone a cui volete bene ecco, sempre che hanno Amazon Keydor, perché questo è un ebook ecco, ciao a tutti e buona lettura grazie a tutti